Un'altra giornata dedicata alla pulizia delle spiagge a Diamante da parte di un gruppo di volontari che ha raccolto la proposta lanciata dalle pagine del sito Gente del Sud. Dopo la cosiddetta spiaggia grande, il gruppo si è dedicato a raccogliere rifiuti di ogni genere sulla spiaggia della zona Guardiola. Abbiamo trovato tantissima roba, davvero impensabile, a partire dal ferro, plastica, vetro, tanta roba che, se si pensa, potrebbe essere tranquillamente portata su dalle persone che la scendono in spiaggia. Come si può vedere, questo solo dopo un'ora e mezza di lavoro e c'è ancora molta roba da rimuovere. Noi torneremo sulla spiaggia di sicuro settembre-ottobre, ora non ho una data precisa, però abbiamo altre iniziative e cercheremo di arrivare al Pollino, quindi al Parco Corvino, perché anche lì abbiamo visto che è abbastanza trascurato. L'amministrazione comunale, che grazie all'utilizzo di mezzi meccanici provvederà nei prossimi giorni a raccogliere tutto quanto accumulato dai volontari, ha contribuito fornendo ai ragazzi buste, guanti e bidoni. Il sindaco Ernesto Magorno ha sottolineato il valore dell'iniziativa lanciando una scommessa a tutta la cittadinanza. È un segnale di una comunità che prende spunto dai giovani e che capisce che per presentare un paese, fatemi passare il termine, è appetibile sotto l'aspetto turistico, ha bisogno che ci sia anche l'aspetto ambientale. Ci giochiamo questa scommessa, me la gioco con i miei, con i cittadini, me la gioco con chi ci ascolta. Io spero che Diamante passi da una a due vele su indicazione di lega ambiente. Ma il mare, si sa, non porta solo rifiuti e questa ne è una prova. Tra tanta spazzatura è una cosa bella l'abbiamo trovata.